Non c'era bisogno di parlare, stavo un po' lì e poi pian piano questo posto, questo posto sconosciuto anche oggi, quando poi questo luogo negli anni ha preso forma, il nostro appuntamento è diventato importante e quando si è trattato di mettere in mano a questo luogo cercando i fondi, mettendosi d'accordo con le terapie dello Stato, una cosa buonissima di anni, si è arrivati a questo muro. Questo muro nel progetto degli architetti è un muro che significa tantissimo perché è il muro da passare e da arrivare ai vagoni. Ci sono i vagoni del tempo, cercati e provati, compagni anche quelli che indicati nei depositi, ma questo muro è il passaggio da la vita civile e umana a quello che è successo qua dentro. E che cosa scrivere su questo grande spazio che accoglie tutti quelli che vorranno o che sono venuti a visitare questo miglioriano. Io, essendo una delle pochissime tornate, io il milanese, nata a Milano, da genitori che la vissi anche con il nuovo milanese, conoscevo la stazione, cercano queste, non il sopiavano, conoscevo quando da bambina felice partivo per andare al mare col treno. Quando ho pensato, dopo la mia esperienza di ragazza che invece di partire col treno per andare a Cenevigure, partì col treno per andare ad Auschwitz, nell'indifferenza generale, che fu veramente un silenzio colpevole, un silenzio indimenticabile nella sua indifferenza. Allora mi sono veramente battuto, insistito, seccato, annoiato le persone, e ho detto per favore scrivete indifferenza. Ed è il modo migliore per entrare a vedere il resto del memoriale. Per arrivare a quel binario, per arrivare a quei vagoni che non sono folcloristici come qualcuno ha osato dire. Vagoni in cui il gruppo, nel caso del mio trasporto, 600 persone, quindi erano molti camionati da San Vittore. Io sono stata a San Vittore 40 giorni, so come si stanno le celle, anche se adesso sono rinnovate, sicuramente tutte diverse da quelle che ho vissuto io con mio papà, con quella celle indimenticabile. Come siamo arrivati qui? Ma chi eravamo? Eravamo vitelli che andavano a qualche matatoio, eravamo merci, eravamo già pezzi, quelli stucchi che poi siamo diventati senza saperlo. Nessuno ci ha fermato per strada. Sono stati detenuti di San Vittore che ci hanno dato l'ultimo saluto, perché detenuti sanno molto bene in radiocarcere, chi è colpevole e chi no. Il loro saluto di grande umanità mi fa, mi obbliga oggi, quando ho pensato che sarei venuta ancora, anche oggi con i miei 90 anni qui, perché è il mio dovere finché ho vita di ricordare quelle persone, che quei detenuti ci hanno fatto sentire ancora persone. E c'è il Primo Levi, mi sono segnata questo di Paure di Maticana, che dice, quando ognuno era come un sigillo, di noi ciascuno recca l'impronta dell'amico incontrato per via, in ognuno la traccia di un uomo. Questa è una stupenda poesia di Primo Levi che si chiama Agli Amici, e che, quando io leggo Primo Levi, penso sempre che peccato che non ho capito io prima queste cose, non sono capito in grado di dirle, ma le faccio dire con tutta me stessa, perché è il contrario dell'indifferenza. Quando ognuno è la traccia con l'uno, quando uno è il sigillo dell'altro, ci può essere indifferenza. L'indifferenza porta alla violenza, perché l'indifferenza è già violenza. E quando i violenti, che non erano solo i nazisti, erano aiutati dai fascisti, i nostri vicini di casa, avevamo un terrore, noi spinti qua dentro come un regge diretto al macello, ci guardavamo intorno e vedevamo, e sentivamo parolacce, urla, grida, in italiano, erano i nostri fratelli. Quando siamo spinti dentro i vagoni e sigillati, ognuno piangeva con le lacrime dell'altro. E nella giornata di oggi, che è dopo il 31 gennaio, non mi domandò, io, dove ero il 31 gennaio, nel 1944, a 15 anni, io ero nel treno. E il treno quel giorno, dopo essere partito il 30, da cui aveva passato il confine. E la gente, quando ha visto che non era più in Italia, da quei finestrini, che qualcuno di voi arriverava a rivedere i vagoni, che non sono fulcruistici, ma sono tragicamente uguali a quelli, che quando dai finestrini si vede che si era arrivati al confine, di piante e di sperazione, di randicchiarsi mio, nelle braccia di mio padre, sono indimenticabili, perché il viaggio dura una settimana. E quindi la partenza da qui era ancora Milano, era ancora l'altra città, dove ero nata, cresciuta, andata a scuola, dove ero andata al cinema, dove ero stata così tanto amata. Ma il giorno dopo, ero già una ragazza vecchia, che cercava di non sentire e di non vedere. Cominciavo a cercare di sottalarmi alla disperazione, a cercare di avere quella forza che devono avere i ragazzi, gli adolescenti, per i quali ci si preoccupa tanto e che in realtà sono fortissimi. Gli adolescenti sono fortissimi e possono cambiare il destino loro e quello dei loro genitori, spesso deboli, incapaci, e che in realtà sono fortissimi. Noi quando siamo adolescenti siamo fortissimi, possiamo consolare l'altro e mentre l'altro ti dice non avere paura, tu gli rispondi non ho paura, perché sono vicino a te. Ricordiamo tutti quelli che non sono fortissimi. e che sono fortissimi, Shalom